Siamo nel punto più alto di quella che fu la discarica di Chiaiano, dove furono conferiti in circa due anni quasi 600.000 tonnellate di rifiuti. Oggi, grazie a un lavoro eccellente fatto da Sapna, dalla città metropolitana, coordinata ovviamente da noi, quindi con una direttiva politica precisa, si è arrivato al capping definitivo della discarica che è diventato un luogo in cui si può venire a mirare come un luogo di distruzione diventa un posto di rigenerazione. Qui, tra settembre e ottobre, ci sarà tutto verde, con essenze arbore naturali e quindi sarà un luogo che potrà essere frequentato abitualmente da associazioni giovani, può diventare un luogo pedagogico anche di formazione e di studio. Questa è la politica ambientale che la città metropolitana vuole mettere in atto insieme alle comunità, insieme ai territori, insieme alle associazioni, una leale cooperazione tra istituzioni. Siamo davvero fieri del lavoro eccellente che i lavoratori e le lavoratrici, in particolare di Sapna, insieme alle ditte hanno realizzato e quindi possiamo dire con orgoglio che in dieci anni c'è stata una totale rigenerazione di un luogo che fu distrutto da montagne di rifiuti e che adesso viene restituito al territorio per poter diventare poi un vero e proprio parco collinare.